Io non vorrei parlare, non ne vorrei proprio parlare perché non mi interessa, però tutti i giornali e i siti web titolano che ha una sofferenza di 6 milioni, 6 milioni di euro, la Ferragne. Dall'altra parte, sempre tutti i giornali e tutti i siti online pubblicano che il patrimonio della Ferragne è 39 milioni di euro. No, e io dicono, ma come cazzo si fa a scrivere queste storie così? Ma scusate, ma se c'è una sofferenza di 6 milioni di euro, si venderà quello che ha per 6 milioni, mette in pari i conti, buonanotte, non ho capito. Ma perché bisogna fare tutte queste storie qua? Su una Roma che non esiste, ma magari la gente che ha un sacco di sofferenze bancarie, avesse un patrimonio tale per cui potrebbero ripianarlo, come dire. E invece no, e la povera gente purtroppo soffre e va avanti, solo Cristo lo sa come, no? E invece questi qua che sono pieni di soldi, i giornali titolano anche che la Ferragne è in sofferenza per 6 milioni, ma che andassero a fanculo tutti, è veramente. Scusate l'inglese, ma io non ne posso più di questa roba qua.